Siamo nuovamente qui in diretta da Talk Sicilia, ormai siamo una presenza costante nelle vostre vite, ci seguite sia dalla televisione che dal nostro blog Sicilia.it, noi siamo nel programma di approfondimento di blog Sicilia.it, le nostre pagine social e stiamo affrontando questa campagna elettorale tentando di raccontare il vu is vu delle candidature al Parlamento regionale soprattutto perché ricordiamo il 25 settembre si vota per il rinnovo del Parlamento nazionale, ma noi siciliani siamo chiamati anche a scegliere il prossimo Presidente della regione ed eleggere i deputati che comporranno l'Assemblea regione siciliana. Oggi parliamo di elezioni, di politica, di Sicilia ma anche di valori un po' più alti con Sandro Oliveri. Benvenuto a Talk Sicilia Sandro. Grazie. Ci diamo il tuo visto che ci conosciamo a quasi 30 anni o dobbiamo fare finta? No, no, no. Ci lasciamo andare. Sì, sì, sì. Ah Sandro, tu sei un volto giovane, sei un volto conosciuto della politica, quest'anno ti candidi con la nuova democrazia cristiana, una scelta che comunque è sempre coerente con i tuoi valori, tu sei diciamo, sulla pagina di Wikipedia c'è scritto sei il primo deputato italiano che appartiene al movimento cristiano evangelico, evangelico pentecostale, evangelico pentecostale perché il mondo evangelico si suddivide, vabbè anche come avviene nell'ambito cattolico, che ci sono le varie diramazioni, no, i Gesuiti eccetera eccetera, anche noi abbiamo, gli evangelici sono suddivisi in varie cosiddette denominazioni, quella pentecostale è la più numerosa al mondo, pur essendo nata alla fine del 1800, 1894, gli si dà più o meno la nascita del mondo pentecostale, che è cresciuto nel mondo in maniera... E il valore della dottrina cristiana sociale è una cifra a cui tu non puoi rinunciare nella tua vita politica, no? Sì, assolutamente in questo aspetto, sì, assolutamente sì. Ma cosa cambia nell'approccio? Cioè come un nuovo politico, di affare politica, quando è portato a fare ragionamenti di carattere di bilancio, di come dire, sulle teme ambientali, come fa a declinare e a restare sempre nei binari dei valori cristiani sociali? E perché no? Non dico che non sia possibile, ma come fai? No, no, perché c'è questa cultura di vedere come se fossero due comparti totalmente separati. Siccome stiamo parlando di valori cristiani, no? Dobbiamo rifarci ai principi cristiani e quindi biblici. E se noi vediamo, per chi conosce bene la parola di Dio, io peraltro sono dottore della parola, sono ministro di culto e sono presidente della facoltà teologica italiana, quindi da questo punto di vista ho un minimo di competenza. Infatti io per questo ti chiedo come declinare in maniera corretta la politica. E se noi andiamo così un po' per non essere troppo complicato. C'è il famoso detto, date a Cesare, che di Cesare è a Dio quel che è di Dio. In questo caso tu rappresenti Cesare, diamo a Cesare è a Dio nello stesso momento. E appunto ti spiego, ti chiedo, facciamo capire che cosa si fa. Mi permetti che ti rispondo, visto che mi sono presentato con la mia veste principale, quella di ministro di culto, di risponderti con la parola di Dio, che dice, ti posso presentare il versetto Marco 7,13, dove Gesù, parlando con i farisei, che erano i preti del tempo, mettiamola così, quindi le persone più autorevoli dal punto di vista religioso, gli diceva voi seguite più le tradizioni che la parola di Dio. In conseguenza noi tante volte seguiamo più le tradizioni che la parola di Dio. Se noi andiamo alla parola di Dio, Dio dice che ci ha fatti re e sacerdoti. Cioè con un'autorità nell'ambito spirituale e temporale. Ed è una cosa che magari può sembrare strana. Quindi Dio che ha dato all'uomo l'autorità di calcare serpente e scorpione, sto parlando anche di aspetti più spirituali, e quindi un'autorità di dare i nomi agli uccelli, ai pesci, agli animali, no? Quindi l'ha costituito suo rappresentante nella Terra, poi arrivato alla politica non dobbiamo giovernare. Nelle chiese, per esempio, si predica costantemente, principalmente sul ruolo del marito, della moglie, dove ognuno deve governare anche la casa. Ci sono cose molto pratiche. Allora perché ci dobbiamo limitare soltanto all'ambito casalingo, ecclesiale, e poi fuori non viviamo? Cioè smettiamo di vivere? Quindi la politica è una funzione anche che deve essere declinata con la propria spiritualità. Assolutamente, secondo i principi del dettato morale e quindi spirituale. E proprio oggi ancora di più credo che ci sia questa esigenza. Ecco, facciamo un punto, San Roberto Dami, nel 2022. Stiamo vivendo tempi molto complicati, sia a livello regional, a livello nazionale, non parliamo a livello globale, ci sono guerri, i focolari di guerra un po' dappertutto. La parola di Dio applicata alla politica, ancora si ascolta. Tu hai fatto il riferimento ai farisei. Quanti farisei ci sono nella politica di oggi nel mondo? Non sta a me dirlo, ma se noi guardiamo… Non si punta mai il dito contro qualcuno. Esatto. Infatti ti rispondo col sentire comune, che mi porta ancora di più a una responsabilità più alta in questo senso. Noi sappiamo bene come oggi il partito di maggioranza è il partito dell'astenzionismo. Perché la gente non vuole andare più in politica? Perché la sfiducia nei confronti della politica, che poi secondo me è il più corretto di dire dei politici, perché la politica è un termine nobile… Si fa sempre politica. La politica è anche a casa. Anche a casa si fa politica. Esatto. No, la gestita della politica… Noi parlando in questo momento stiamo facendo politica. Anche, ma in modo particolare cominciamo dal nucleo fondante di una società, dell'essenza della vita, la casa, dove il padre ha un ruolo, la madre ha un altro ruolo, i figli altri ruoli, che devono sapere come gestirli, perché se no le sanno gestire fanno casotto. Ti rendi conto che queste tue affermazioni, rispetto a molte argomentazioni… Sono totalmente fuori dal… Lo so, ma ti aggredirebbero per quello che c'è. Il mondo che va verso il gender fluid… Il primo che è stato aggredito… Ora, addirittura, c'è la politica… Ah, è un tal Gesù Cristo che è stato messo pure in croce, tanto per avere un'idea. Quindi che si possa… se tu hai una certa idea… ecco, in politica c'è l'arte del farsi… perché il consenso ti comporta questo. Noi conosciamo che dal punto di vista biblico la verità è la verità, a costo della vita. Ora, non voglio esagerare, però se ho delle idee, non le cambio perché il sentire comune va in altri ambiti, devo cercare di poterle affermare sapendo ed essendo pienamente cosciente che possibilmente l'affermazione di questi principi è un bene per gli altri, quindi se lo faccio è perché è un bene. Viceversa, in politica, altro aspetto che ha portato all'allontanamento della politica, per il consenso si fa di tutto, no? E da lì, quindi… E tu ovviamente non sei disposto a fare tutto per il consenso? Assolutamente no. Qual è il… Meglio sì, ma secondo principi di correttezza. Poi, se non viene apprezzato, mi dispiace, ma tu non puoi immaginare quanti in questi giorni che sto contattando, che possibilmente non ho contatto da parecchio tempo, quindi avrebbero pure da lamentare se ti fai sentire solo in occasione delle elezioni, non ti puoi immaginare quanti, ma quanti, ma quanti mi stanno dicendo, meno male che ci sei tu, in questa maniera ho la possibilità di andare a votare, perché altrimenti non ci sei andato. E non puoi immaginare quanti, dice, non solo ti vado a votare, ma ti faccio campagna. Perché chi mi conosce, ora sembra che voglio millantare credito, però… Non è millantare credito. Si rende… conosce, ecco, conosce, che il mio profilo morale è di tale livello che è quello che tutti quanti vorrebbero, dai politici, ripeto, può sembrare autoproclamazione, però io sto riportando quello che mi hanno detto parecchi, che non volevano andare a votare, e ripeto, nel momento in cui ho contato mi hanno detto quello che ho appena detto… Se non è stato molto alto l'assenzionismo a questo giro elettorale? Io non faccio i sondaggi, li leggo, si dice che il partito di maggioranza è quello dell'assenzionismo. Peraltro in questa circostanza in un certo modo ci andranno a votare perché c'è l'abbinamento, l'election day nazionale-regionale, ma io che faccio appunto campagna elettorale non puoi immaginare quanti ne sto trovando, che sanno che si vota, ma sanno che si vota per Camera e Senato, non sanno neppure che si vota per le regionali. Cioè, l'ignoranza è tale, perché? Io lo sono spiegato, perché in televisione veniamo dalla mattina alla sera bombardati da tutti i talk show che parlano di politica nazionale, mentre… Anche noi in questo momento facciamo parte di questo bombardamento, no? Però non stiamo parlando di regionale, almeno noi parliamo di regionale, perché a livello regionale viceversa, mentre prima c'erano i manifesti appesi dappertutto con valoni, strisciano, oggi siccome si rischiano molte serie non c'è più niente, quindi è molto silenziosa la campagna del regionale. Un po' più umile e modesta, no? Peraltro, sì. Questa è una cosa buona perché prima si spendevano tanti soldi e poi i politici dovevano recuperare e chissà che cosa dovevano fare per recuperare più soldi. Poi diventavano, come dire… Oggi anche la campagna costa sempre, ma molto meno. Passimonia, no? Poi in questi tempi… Sì, 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 sì. Allora, parliamo di valori cristiani e sociali in politica. Se dovessi… Tu hai già un'esperienza, è stato parlamentare nazionale, ora ritorni… Sì, poco fa mi ti faceva la domanda, primo pentecostale in Parlamento. Primo pentecostale in Parlamento. Purtroppo ancora unico, perché… Poi non ce ne sono stati altri, no? Però, vabbè, a parte, diciamo, questo aspetto… E del progetto che mi porta a convolgermi. Quella domanda che poi… No, prego, insomma, parliamo di argomenti come dire che dovrai affrontare una volta eletto all'Assemblea regionale siciliana. Te li metto proprio, ti faccio tre, quattro domande a raffica, così puoi parlare liberamente con scioltezza sui vari temi che ti pongo. Allora, punto primo, i giovani. Che futuro può dare questa terra ai giovani? Dobbiamo continuare a vederli scappare, emigrare, andare a Londra, negli altri paesi e perdere la speranza di una Sicilia migliore grazie a queste risorse che non vedremo più, perché chi va via non torna. Secondo tema, le imprese e la crisi energetica. Cosa si può fare per lenire il dramma che stanno vivendo centinaia, migliaia di imprenditori? piccoli e grandi. Terzo, una politica energetica per la Sicilia, come conciliare la tutela dell'ambiente e la necessità di uno sviluppo industriale. A te la parola, Fando. Sì, sono tre argomenti di un'importanza. Sono gli argomenti principali che per adesso. Ma sono quelli che dovrai affrontare, no? Sì, assolutamente. Cioè io non ti porto nelle beghe chi lì, c'è la lì, non c'è la frega. Noi dobbiamo presentare il tuo programma a chi ci ascolta. Cosa potrai voler fare? Anche in questo cerco di distinguermi, non per fare appunto quello che si vuole distinguere, ma se noi affrontiamo ogni argomento, dovrei parlare mezz'ora per ognuno, non abbiamo il tempo. Beh, facciamo una sintesi dai. No, voglio fare una sintesi globale. Nel pieghevole che ho preparato... Sei venuto armato di brochure elettorali. Però piccola tirata d'orecchia, fai vedere, mostra la rigia per favore il volantino. Il pieghevole, il volantino è un altro. Sei ancora molto giovanile, però hai usato una foto, hai usato Photoshop, una foto di... No, no, questa è una foto che avevo conservata, perché siccome si è decisa all'ultimo minuto, la prima che avevo, la migliore che avevo, l'ho messa lì, è un po' stagionata. Però diciamo, sei sempre riconoscibile, sei sempre... Sì, sì, sono io e di qualche anno fa. Il sorriso, lo sguardo e gli occhi sono sempre quelli. Anche perché questa è la foto che si trova nella, come si chiama, della camera, nel sito della camera, quindi è proprio quella, quindi è la foto istituzionale. La situazione di marketing subliminale, ma la tutela fede ti consente di fare marketing subliminale. Siamo borderline. L'arte della comunicazione è premissima. Sì, però così siamo borderline. Aveva una capacità di comunicazione. Se metti una foto di 20 anni fa, secondo me sei borderline. Non è di 20 anni fa. Di 10 anni fa. Di 10 anni fa. Siamo un po' borderline. Vabbè, una direttina d'orecchia, non si signore, tutta più, dai. Ho rischiato che non mi si riconoscesse, se vogliamo. Assolutamente no. Però ripeto, siccome tutto è stato fatto molto, perché non mi dovevo candidare. Non ti voglio tediare più con questa sterile polemica. Infatti, andiamo agli aspetti più concreti. Perché tante volte ci soffermiamo sugli aspetti marginali e perdiamo di vista quelli sostanziali. Tu hai parlato di tre argomenti e non c'è il tempo per svilupparli. Ti potrei dire per ognuno tutto quello che già ho fatto, perché è molto meglio di parlare del libro dei sogni. Farò, farò, farò. E quindi mi voglio soffermare, ho preso questo, perché nel pieghevole che ho preparato, a parte i facsimili che tu danni i facsimili, fai votare e ti serve per entrare nella cabina, qua ho voluto dare spazio a due aspetti. Uno, la presentazione di Sandro Oliveri. Chi è Sandro Oliveri? E nella mia presentazione evidenzio che sono, piacerà, non piacerà, che sono ministro di culto, dottore della parola, che sono il presidente della fondazione che gestisce la facoltà di teologia. Questo perché? Per quello che ho detto prima, chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce può leggere da qua, che darebbe il voto a chi ha un profilo morale, che è quello che tutti si aspettano dai politici, che essendo in questa posizione da 40 anni, credo che... Va bene Sandro, hai le carte in regola per fare il politico, ma quali sono i tuoi? Aspetta, secondo, aspetta. E mai io devo fare a parte del giornalista Cattino? Sarò molto veloce, sarò molto veloce. Fai fare a parte del giornalista Cattino. Sarò molto veloce, a me tu mi hai fatto la domanda, fammi finire. Secondo, io il libro dei sogni di tutti quanti che parla dei programmi, farò, 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 che poi si sa che quando arrivano non faranno niente, non parlo di programma, ma parlo di progetto. Preferisco parlare di progetto. Il progetto che mi ha coinvolto in questo partito, Nuova Democrazia, anche perché io sono sempre stato di un partito, oggi se non sono più di quel partito, perché non mi piace essere un cambia-casacca, però è una cosa che mi disturba. Vabbè, comunque diciamo sempre abbastanza coerente. Se non sono più di quel partito è perché quel partito non c'è più a livello nazionale e il mio progetto è nazionale. Questo partito, giusto in mia presenza, è un partito che è diventato nazionale perché si fonderà con l'Udc, ho parlato con il segretario nazionale, quindi c'è il progetto. Ma questa è notizia, quindi l'Udc era Nuova Democrazia Cristiana e Ritorno Naziana? Sì, questo è stato quello che mi hanno detto, sia il segretario regionale della Dc, perché la Dc attualmente è regionale, che è il segretario nazionale della Udc, che mi ha detto la stessa cosa del regionale. Sì, dopo le elezioni fonderemo e si fonderà il nome con il simbolo, quindi si ritornerà alla antica, mi piace, Novecchia, antica, Democrazia Cristiana, che attenzione, tutti quanti ci ricordiamo la Democrazia Cristiana dell'ultimo periodo, quella che era diventata un luogo di potere e che poi appunto è finita perché ha fatto i danni, ma quella iniziale, quella che portava avanti i principi di Don Luigi Sturzo, che ha fatto stare bene per 30-40 anni l'Italia, è quella che noi vogliamo ripristinare, che io presento nel mio volantino, nel mio pieghevole, dove parlo che Don Luigi Sturzo, nei primi tre punti del suo programma, ora ci vuole lì il programma, parlava dell'integrità della famiglia, quindi i valori fondanti della famiglia che vanno ripristinati e che necessitano di una protezione particolare. Noi abbiamo in Italia, in Sicilia voglio dire, la legge 10-2003, che è la migliore legge, mi dicono personaggi autorevoli, non siciliani, che esiste al mondo, solo che qua non la utilizziamo, in Svezia ce la copiano, in America ce la copiano, qui non la mettiamo in pratica. Ma cosa dice questa legge? Venite il giorno 22 alle 8.30 in via Carlo De Grossi, bravissimo, hai fatto lo sgambetto, ci sarà una presentazione di almeno un'ora, io vi posso dire soltanto i primi tre punti, che esiscererà da Don Luigi Sturzo alla legge 10-2003, e così li approfondiremo in maniera molto, ma molto significativa. Quindi il primo punto, tutela della famiglia. Tutela della famiglia. Secondo, libertà di educazione e insegnamento. Noi si vediamo fino al 1860, prima dell'unità d'Italia, l'ignoranza era al livello del 70%. Da quel momento c'è stata una particolare attenzione alla cultura, e noi vediamo come l'accelerazione, quindi l'importanza dell'insegnamento... Ti ho dato una brutta notizia però. Però purtroppo è stato insegnamento. Ti ricordo che metà italiani sono analfabeti funzionali. Però l'insegnamento, sì, però se noi vediamo, non abbiamo il tempo. Sono tanti argomenti interessanti. Essendo presidente della facoltà, e adesso attivando dell'ambito universitario la mia attività, perché io sono imprenditore, quindi sto attivando tutto, delle iniziative in ambito universitario. È un argomento che però mi serve un po' più tempo. Vedo che il tempo scorre. Ma il tempo scorre, ma noi non siamo tiranni del tempo. E quindi la libertà di educazione, che è molto di più del semplice insegnamento, perché noi ci siamo occupati dell'insegnamento, ma non dell'educazione. Vita, famiglia, educazione sono i nostri te slogan, dove vita e famiglia, sappiamo, educazione è quella di poter far sì che l'insegnamento sia basato su dei valori. E a questo proposito, mi permetto di cambiare, è venuto proprio armato, ci stai raccontando. Eh sì, eh sì. Che, a proposito del mio progetto, del mio progetto, c'è questa indicitura. Intanto nel mio volantino, nel mio facsimile, io lo slogan che ho usato è... Me l'hai levato alle mani. No, no, perché volevo fare vedere questo. A difesa dei valori cristiani. A difesa dei valori cristiani, però non so se si vede bene, però lo raccontiamo bene. A difesa dei valori cristiani. E a questo proposito, il libro dei sogni, dicevo, più che dire facciamo, farò, 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 e dare il libro dei sogni che poi non vengono mai realizzati, voglio dare i principi. Il mio programma, uso dire i miei principi. E faccio un esempio, perché se sono imprenditore, il capostipite di una famiglia realizza un grande impero. Poi lui muore, passa i figli, finisce tutto. E non perché quel settore è entrato in crisi, ma perché lui ha avuto la testa, gli altri no. E allora tante volte non è quello che voglio fare, ma chi lo può fare? Se ha quei principi che glielo faranno fare, perché ha un'attenzione alla vita, al sociale, al bene pubblico, tale che quelle cose le farà. E mi avvalgo di una frase che penso che possa essere utile a molte, che dice, chi cerca rimedi economici e ha problemi economici è su una falsa strada. La quale non può che condurre al precipizio. E oggi tutti i politici si occupano di risolvere i problemi economici. Il problema economico è l'aspetto, è la conseguenza di un più ampio problema spirituale e morale. Ora dice, che l'ha detta questa frase? Un papa, un vescovo, non lo sai che l'ha detto? Luigi Enaudi, professore di economia, ministro del bilancio, secondo presidente della Repubblica, quindi un politico, politico, professore di economia, ministro del bilancio, quindi uno che di economia ne capiva, e perché dice questo? Quindi vedere la persona, cioè chi fa le cose, i principi, per essere chiari. le soluzioni, la politica deve avere al centro l'uomo. Se poi si arriva lì e non si pensa altro che banderere la poltrona, scusa se dico questo che sembra che voglio accusare i colleghi, e quello che abbiamo visto e che andiamo vedendo va sempre peggiorando, questo atteggiamento di non pensare al bene pubblico ma al bene personale, è quello che ha portato, ripeto, al partito mangiore non si deve essere il partito degli assenzionisti, e che credo che chi ha un atteggiamento interiore invece rivolto verso il sociale, perché io ho iniziato con l'attività sociale, oggi abbiamo 170 volontari che sono volontari, cioè di quelli che ci mettono soldi di tasca, che ci guadagnano, che fanno 12 attività e questo lo faccio... E cosa fanno questi volontari? Dal banco alimentare, banco vestiario, visita nelle case... La tua rete, sul territorio... Una mano... Una sera, pane e parola che si distribuisce ai senza tetto... Pane e parola è un'iniziativa bellissima. Hai senza tetto la sera, vanno preparando le cose a casa e vanno in giro col furgone a consegnare il cibo. A una di queste serie mi ci accompagni con la telecamera e raccontiamo questa storia. Assolutamente sì. Molto bello, un bel racconto da fare. Magari vieni, appena finiscono le lezioni, andiamo a farci un giro. Ci facciamo un giro. Vado in giro con l'onorevole Oliveri a raccontare pane e parole. A distribuire il cibo e a dare non solo il conforto di un... Perché l'aspetto è anche lì importante. Lo fanno tanti e è una cosa meravigliosa. Ma noi lo facciamo con un atteggiamento interiore particolare che oltre a dargli il cibo gli diamo una parola di speranza. Ci prendiamo cura del bisognoso. Non ci prendiamo solo cura del bisogno, ma del bisognoso la cosa cambia. È fondamentale. Radicalmente perché... Questo è un piccolo atto d'accusa, no? Di solito la politica si occupa del bisogno, non c'è più l'uomo al centro del problema. Esatto, esatto. L'ho voluto specificare. Diventiamo numeri, diventiamo... Si guarda al bisogno, cioè non ci rendiamo conto che è l'uomo quello che va considerato. Credo che Inaudi quando parla di dimensione spirituale vuole riportare l'uomo al centro del dibattito politico. Esattamente. Bene, Sandro, hai un appello da mandare agli elettori? Abbiamo un paio di minuti per concludere questa intervista. L'appello che posso fare nei confronti di tutti quelli che non vogliono andare a votare. lo capisco. È comprensibilissimo questo atteggiamento di rifiuto della politica perché sarebbe invece più corretto dire dei politici. Però effettivamente non andare a votare significa votare. Perché tu stai votando secondo la maggioranza, quindi stai dando spazio a coloro che vogliono portare avanti le proprie cose e di portarle liberamente. Perché d'altronde il presidente verrà eletto, i deputati verranno eletti, ne saranno eletti 70, in ogni caso andranno a gestire. Allora, una scelta che ti permette di poter individuare il candidato che tu ritieni che sia corretto, che sia più corretto, che sia più spendibile, è una cosa che ti permette di poter incidere nell'ambito di un argomento che ti riguarda. Perché non ti riguarda soltanto il circuito della tua casa, della tua famiglia, ma il condominio, il quartiere, il comune, la regione, la nazione sono casa. Aspetta, mi hai fatto venire in mente un'altra ultima domanda che ti volevo fare. Il concetto di autonomia siciliana, quanto vale nella tua impostazione politica? È il terzo punto. Non lo so, non ho copiato. È il terzo punto che è nei punti di Dossur. Io peraltro vengo dall'MPA. Io poco fa stavo dicendo non... Movimento per l'autonomia. Movimento per l'autonomia, quindi puoi capire quanto ci tenga l'autonomia, ma il Movimento per l'autonomia porta avanti un principio biblico, le dodici tribù di Israele. Il proprio Dio aveva stabilito come andava... Se noi crediamo alla Bibbia, il 70% parla di economia... Ma questo, il Presidente Lombardo lo sa, che porta avanti un principio biblico. In effetti glielo dovrei chiedere. Glielo devi chiedere a Raffaele se sapeva di portare avanti un principio biblico. Che è un principio biblico delle dodici tribù. Io nutro qualche dubbio onestamente, a proposito. Eh vabbè. Con tutto l'affetto del mondo. No, no, non è di Firenze, con tutto... Uomo di grandissima cultura, simpaticissimo. Lui si vantava di essere stato colui il quale aveva portato il primo Pentecostale in Parlamento, lo diceva a tutti. Sono stato io. Questo era un fatto, come dire, di orgoglio. Ma che lui abbia fatto l'MPA sulla base delle dodici tribù, sinceramente non... Mi viene un po' dura da... Ecco, quando... Eccolo il Valentino, importantissimo. Questo te lo regalo. Grazie. Ne farò buon uso. Questo... Ecco, lui, possibilmente perché ci crede, nell'autonomia e quindi l'ha realizzata. E quindi lui nella sua convinzione. L'uomo di grande fede è anche Raffaele Lombardo. Assolutamente sì. Lui ve l'ha fatto perché lui ci crede, all'autonomia. Io invece parto dal principio, dai principi biblici. Perché credo che siano... Cioè, è come quando compriamo un... Oggi specialmente ancora più di prima, un macchinario, chiamiamolo così, un utensile. C'è il manuale del fabbricante che ti spiega come utilizzarlo. Non legge mai nessuno. Non legge mai nessuno. Non legge mai nessuno. specie tecnologiche. Poi la gente impazzisce con i cellulari. Ma le lettere e le istruzioni no. Ecco. Esatto. Ma posso fare una... Calza, aspetta, fammi dire, calza. Qual è il manuale del fabbricante di questa macchina? Per me la Bibbia. Va bene. No, con questa battuta credo sia sufficiente così concludere con questa battuta sulla Bibbia. Io ringrazio chi ci ha seguito. Grazie a Sandro Oliveri per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. In bocca al lupo. Sandro, noi ti aspettiamo il 26 qui per fare un bilancio di queste elezioni. Saremo qui in diretta e diciamo stiamo lanciando non sappiamo ancora quando iniziamo però sicuramente racconteremo l'esito di questa tornata elettorale sia per le politiche che le regionali. Grazie nuovamente a Sandro Oliveri. In bocca al lupo. Preferisco nella mano di Dio. Viva il lupo. Viva il lupo. Infatti ormai si dice vive il lupo. Grazie a tutti, grazie a quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo prestissimo nelle prossime ore, nei prossimi giorni qui sempre su Torco Sicilia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.